Sabato prossimo mi reccherò nell'isola di Lesbo, dove nei mesi scorsi sono transitati moltissimi profughi. Andrò insieme con i miei fratelli, il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Ieronimos, per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi, sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco tanto generoso nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie 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 Grazie